Il cane di Rocky, che nell'adattamento italiano è stato chiamato Birillo, era il vero cane di Sylvester Stallone. Prima di raggiungere il successo, Stallone, per alcune difficoltà economiche, fu costretto a vendere il suo cane per 40 dollari. Ma appena Poteri comprò il cane, pagandolo la cifra di 15.000 dollari, senza forse il minimo problema. Il cane è poi morto in maniera naturale nel 1981, ma ancora oggi, a più di 40 anni di distanza, Stallone lo ricorda con molto affetto. In una intervista di qualche anno fa, ha affermato di avere una foto del suo vecchio amico a quattro zampe come sfondo del computer. Non dimenticate di seguire Screen Week per altri video sul mondo del cinema.